Ciao da Afsim! Il Paris Saint Germain non vuole più essere un club di figurine, un club di approfittatori, di giocatori con lustrini e quindi cambiare completamente strategia diventando un club che investe nei settori giovanili per cercare giovani talenti e farli sbocciare. Qualcosa di clamoroso ma non tantissimo per chi era stato attento e aveva considerato l'arrivo di Luis Campos al club parigino proprio come una possibile svolta perché non prendi Campos che è un direttore sportivo a 360 gradi e che ti scova i talenti ed è in grado anche di venderli se vuoi semplicemente continuare a spendere un sacco di soldi per comprare giocatori che tutti sanno che sono forti perché il Paris Saint Germain fino a questo momento è stato questo, ha preso Mbappé e adesso l'ha quasi ricomprato ha preso Neymar, ha preso Messi più tutti quanti gli altri che erano forti già prima e quando sono stati presi sono stati anche pagati un sacco di soldi potrebbe metterci anche lo stesso Donnarumma. Voler cambiare è qualcosa di clamoroso perché questo cambiamento, questa rivoluzione annunciata dal presidente Nasser Al-Khelaifi è una rivoluzione che può intaccare le gerarchie di tutto il calcio europeo e mondiale soprattutto di quei club che per una questione di moralismo prendono formalmente le distanze dal PSG ma poi in realtà nella sostanza cercano di imitarlo. E dopo ci arriviamo perché dobbiamo un po' parlare ovviamente della Juventus che cosa ha detto Al-Khelaifi? Intervistato da Le Parisienne ma anche da Marca ha detto proprio questo, basta con i nomi appariscenti, basta con i giocatori che hanno i lustrini, basta con questo sfarzo diciamo e con queste figurine cercheremo di far crescere i giocatori dal settore giovanile, andremo a prendere i giocatori dal settore giovanile cercheremo di costruire il miglior centro di formazione giovanile al mondo perché ovviamente poi con i soldi puoi anche comprare o perfezionare le strutture ma direi anche acquisire competenze perché anche per le competenze servono soldi serve bravura però se vuoi andare a prendere uno che è già bravo e che le competenze già ce le ha gli dai un sacco di soldi e viene a lavorare per te e quindi puoi creare il miglior settore di formazione giovanile nel calcio mondiale e nei prossimi anni cercheremo di avere una squadra composta da soli giocatori parigini perché ci sono tanti talenti nella nostra regione che devono avere l'opportunità di giocare nella squadra della loro città e devono avere l'opportunità di mettersi in luce per quello che sanno fare facendoli crescere appunto con questo settore giovanile e Campos non è stato scelto perché l'ha voluto Mbappé Mbappé dice che la Ifi non ha avuto nessuna implicazione, nessun coinvolgimento nelle scelte dirigenziali cioè non è stato coinvolto in quelle che sono le scelte di vertice che vengono dall'alto e Campos è stato scelto perché è bravissimo e dovrà cercare talenti giovani con una mentalità vincente quindi mentalità vincente ma devono essere dei giovani talenti da far crescere tra l'altro squadra di soli parigini è già qualche cosa che ci ricorda un po' la Juve perché ricorderete che Gianni Agnelli disse fosse per me i giocatori della Juventus sarebbero addirittura tutti i piemontesi altro che tutti italiani quando si parlava anche delle frontiere chiuse, del limite agli stranieri ed infatti è diventato anche un po' un motto dell'identità juventina ci fecero anche uno striscione i tifosi della Juventus a Manchester nella finale del 2003 11 piemontesi in campo proprio per richiamare l'avvocato che tra l'altro era morto pochi mesi prima piccolo dettaglio quindi una sera al Califi che rispolvera se vogliamo una frase identitaria della Juventus ma ripeto dopo dobbiamo parlare della Juve cercando analogie e differenze e quindi chi è fuori progetto deve andarsene fino a questo momento qualcuno se ne è approfittato di questa situazione di spendere e spandere in particolare chi non vuole combattere deve farsi da parte chi cerca la propria comfort zone deve andare in disparte perché tutti devono dare il 100% bisogna lottare, devono amare questo club e poi ha anche aggiunto che serve disciplina dentro e fuori dal campo e dal punto di vista dei nomi e della strategia ha detto per Neymar abbiamo rifiutato un'offerta da 180 milioni l'anno scorso perché eravamo convinti che lui sarebbe voluto restare al Paris Saint Germain che è la squadra della sua città e che rappresenta il suo paese non ha fatto una scelta per soldi ma per progetto vabbè queste poi sono chiacchiere possiamo crederci o non crederci mentre per quanto riguarda Galtier ha confermato che sono in trattativa con Inizza per prenderlo non hanno mai parlato con Zidane ha detto Al-Khelaifi né direttamente né indirettamente e anche qui possiamo crederci o non crederci perché Campos potrebbe avere invece contattato Zidane report giornalistici internazionali riferiscono che Zidane è stato comunque contattato anche indirettamente dal PSG per proporgli la panchina ma lui aspetta che si liberi a dicembre e a gennaio quella della nazionale dopo il mondiale comunque vada perché Deschamps non ha fin qui rinnovato ed è in carica da oltre un decennio e per quanto riguarda Neymar non posso parlare in pubblico di quelle che sono le strategie ma ci sono alcuni giocatori che resteranno e altri invece che andranno via quindi Neymar sostanzialmente potrebbe andarsene legando la sua figura al discorso ecco figurine, lustrini, non combattere, comfort zone, scarsa disciplina e quindi non essere veramente votato alla causa del PSG poi ha anche detto una cosa sulla quale sono d'accordo la Superlega è morta ma in realtà neanche è corretto perché semplicemente non è mai nata, non è mai esistita quindi non può essere morta e il Real Madrid ha meritato di vincere la Champions anche se ha rivendicato al Chelaifi che il PSG è stato in partita per gran parte della sfida con il Real però festeggiano per settimane la vittoria della Champions ma non vogliono giocarla perché vogliono distruggere la Champions non vogliono che esista più e quindi se non vuoi più che esista non ci devi partecipare su questo ha ragione, lo dicevo anche l'anno scorso quando Agnelli se ne uscì con la Superlega e la Juve in quel momento non era neanche certa di fare quarta per andare a prendere i ricavi perché solo di quello si tratta UEFA per la stagione successiva con la qualificazione alla Champions League e Pirlo è stato esonerato lo stesso anche quest'anno per il rotto della cuffia siamo arrivati in Champions League per i ricavi perché alla Juve non c'è il progetto sportivo la volontà, le competenze per andare ad essere competitivi in Europa si cerca soltanto di fare dei ricavi perché siamo altrimenti in difficoltà c'è bisogno assolutamente dei soldi della UEFA poi però si fa la guerra alla UEFA perché si vuole affossare la Champions League per fare la Superlega che in realtà non è mai nata ha ragione anche la IFI c'è un'ipocrisia clamorosa anche nel Real Madrid che celebra la vittoria della Champions League e vi partecipa prima ancora mentre dice che la Champions League non va bene se non va bene non partecipi e questo non perché il dissenso deve essere marginato lungi da me dire e pensare una cosa del genere ma deve essere anche incanalato in maniera fattiva e coerente se non sei d'accordo cerchi di creare un'alternativa ma nel frattempo non approfitti della situazione e quindi queste sono state le parole principali di Al Kelaifi ora ragionamenti sulla Juventus e poi andiamo anche un pochino alla composizione patrimoniale del PSG e della Juventus voglio ritornare sulla composizione patrimoniale della Juventus e metterla in questo caso in raffronto con il PSG perché è un argomento che ho già trattato ma qualcuno è sfuggito perché poi mi è capitato di parlarne ancora e mi è stato detto ma a cosa ti riferisci lo spiego dopo prima però appunto i riferimenti con la Juventus perché che cosa ha detto quindi Al Kelaifi ha detto che servono giocatori che vogliono lottare giocatori che amino il PSG e quindi fin qui sembra quasi Agnelli che nell'assemblea degli azionisti dello scorso ottobre 2021 ha citato Riana Fallaci ha parlato di lotta, sacrificio, sudore, sofferenza, amore, vittoria e tutte queste cose da 1800 va bene però c'è una piccola differenza perché c'è poi il modo di andare ad eseguire questo piano e quindi di mettere in pratica questi valori della lotta e dell'amore che è abbastanza diverso da quello invece perseguito dalla Juventus negli ultimi 12 mesi cioè da quando è scattato l'Allegri Inn e perché appunto cosa ha detto Al Kelaifi no comfort zone quelli che vogliono la comfort zone si devono mettere in disparte cioè Allegri e quindi anche qui come possiamo immaginare davvero che Allegri abbia rifiutato il Paris Saint Germain ma il Paris Saint Germain lo sa che Allegri ha detto no? cioè davvero gli è stata fatta una proposta per andare al PSG? io spero che lo prendano adesso chiariamoci ma vedete ripeto possiamo credere o non credere a quello che dice Al Kelaifi però se dici una cosa non è che stai cercando di costruire l'esatto opposto ecco cioè c'è una bella differenza e quando dici quelli che vogliono la comfort zone non sono ben accetti Allegri come fa? Allegri è proprio il classico allenatore da comfort zone perché è tornato alla Juventus rifiutando dice lui il Real Madrid probabilmente anche l'Inter adesso anche il Paris Saint Germain perché? perché è uno che vuole la comfort zone Pogba come fa ad andare a giocare al Paris Saint Germain? che è uno che rifiuta il Manchester City e anche di proseguire con il Manchester United per tornare alla Juve dove sa che viene osannato a prescindere gode di credito infinito anche se gioca male nessuno se ne frega gli offrono i soldi che vuole è il giocatore più importante quando solo mette piede alla continassa eccetera 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 è un altro che vuole la comfort zone Morata è un altro che vuole la comfort zone perché ha detto che lui vuole andare a giocare dove lo amano dove gli vogliono bene quindi dove si trova bene non cerca di mettersi in gioco e sono tanti altri che non cercano di mettersi in gioco anche alla Juventus qualcuno è stato fatto fuori tipo Bernardeschi qualcun altro invece resta chissà per quanto altro tempo magari anche De Sciglio potremmo considerarlo e quindi Allegri come fa ad andare al Paris Saint Germain? ma soprattutto come facciamo a paragonare la Juve al Paris Saint Germain? il Paris Saint Germain è nuovo questa nuova idea di PSG con la Juventus perché va bene la lotta il sacrificio la sofferenza l'amore ma attraverso la no comfort zone che non è una no fly zone no comfort zone quindi ti devi mettere in gioco devi veramente lavorare e poi settori giovanili settori giovanili cioè significa che se Allegri davvero ha rifiutato avesse rifiutato il Paris Saint Germain sarebbe stata tra l'altro l'ultima opportunità per lui di anche solo rispondere ad una proposta perché adesso che hanno preso Campos e intendono fare questa rivoluzione dal basso per Allegri non ci sarà mai più spazio al Paris Saint Germain mentre alla Juve sì e quindi dicevo all'inizio dicevo all'inizio c'è una bella differenza tra essere il Paris Saint Germain club di figurine e imitare il Paris Saint Germain nel momento stesso in cui lo si denigra e se ne prendono le distanze quanti tifosi della Juventus da sempre ritengono il Paris Saint Germain il male del calcio il marcio del calcio e noi stiamo facendo uguale andiamo a prendere Di Maria che ha lasciato proprio il Paris Saint Germain riprendiamo Pogba prendiamo Di Maria cerchiamo giocatori forti colpi importanti giocatori fatti e finiti campioni già definiti perché? perché vogliamo cominciare a fare la squadra di figurine dismettendo il progetto giovani che era stato sbandierato e che non è mai realmente iniziato si parla addirittura di Miretti che se ne va cessione di Miretti incertezza sulla situazione di Fagioli e tanti 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 altri che già sono stati mandati via ai marginati o su cui non si è scommesso abbastanza ecco e diciamo che il Paris Saint Germain è il male del calcio perché? perché hanno i petrol dollari perché è troppo facile fare calcio con tutti quei soldi e quell'immissione di liquidità continua nelle casse nonostante i deficit i bilanci in rosso i debiti e quant'altro c'è una parte di verità è chiaro che anche la IFI è in una posizione privilegiata rispetto alla UEFA ma chi l'ha determinato? questo? Agnelli era amico 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 di Ceferin e presidente ECA è stato lui a rompere tutta la sua credibilità politica in Italia e in Europa con chi andiamo a lamentarci? con chi andiamo a fare i piagnistei? con chi andiamo a fare le vittime? ma quindi dicevo una differenza abissale perché appunto questa ricerca dei giovani, giovani talenti e poi ecco no figurine no figurine cioè anche questo Neymar adesso dovrebbe venire proprio Neymar alla Juve cioè praticamente diventiamo noi il Paris Saint Germain e quindi voglio vedere i tifosi della Juve che ridacchiavano contro il PSG perché hanno speso un sacco di soldi e non hanno vinto la Champions che cosa fanno nei confronti della Juve che diventa il PSG ma di serie B c'è molto anche meno cioè andiamo a scopiazzare senza avere neanche la capacità poi di fare quello che comunque il Paris Saint Germain è riuscito a fare ed ottenere in questi anni anche a livello di piazzamenti europei e allora veniamo alla struttura patrimoniale come vi avevo promesso perché si dice anche questo ripeto il Paris Saint Germain è il marcio perché loro hanno i petrol dollari noi Juve poverini ci siamo costruiti da soli è una piccola attività di famiglia Allegri la sera mangia pane e cipolla poverino come fa con i pochi strumenti che gli vengono dati senza lusso senza sfarzo a lavorare con questi cessi di giocatori che sono stati pagati un sacco di soldi però sono scarsi e perché servirebbero i giocatori veramente forti serve Di Maria serve Neymar serve la squadra di figurine altro che Progetto Giovani poi il Paris Saint Germain inverte la rotta per Progetto Giovani e noi rimaniamo come i fessi ecco andiamo a vedere chi è il proprietario del Paris Saint Germain Qatar Investment Authority che è un fondo sovrano catariota ok quindi detiene il 100% del Paris Saint Germain in che cosa ha investimenti partecipazioni e attività oltre al PSG il Qatar Investment Authority in molte banche anzi vi dico proprio l'attività in cui ha partecipazioni maggiori perché chiaramente i business più importanti di una holding di un fondo si definiscono in base alla percentuale di partecipazione quindi alla percentuale di controllo delle varie aziende controllate poi ovviamente magari una percentuale inferiore può portare a ricavi maggiori perché dipende dal business di quell'attività e dai ricavi da quell'attività ma un conto è l'importanza dal punto di vista dei ricavi altra cosa è l'importanza dal punto di vista del controllo e quindi le società principali di punta che fanno capo a Qatar Investment Authority sono quelle in cui Qatar Investment Authority ha la maggiore percentuale di partecipazione quindi se andiamo a vedere sono soprattutto banche sono soprattutto settore anzi centri commerciali e quindi diciamo retail e produzione di gas queste sono sostanzialmente anzi no più che altro no neanche tanto gas banche e centri commerciali sono quelle dove il Qatar Investment Authority ha le maggiori partecipazioni negli altri settori che adesso vi menziono la partecipazione è ridotta a una piccola percentuale e quindi non è neanche vero che Qatar Investment Authority e quindi il Paris Saint Germain vive di petrol dollari i soldi che arrivano al Paris Saint Germain provengono principalmente da banche e da retail perché poi abbiamo automotive ma non è un'attività principale grande distribuzione organizzata media editoria settore petrolifero tra le tante cose difesa industria energetica estrazione di gas ingegneria civile servizi come anche per esempio raccolta rifiuti energia nucleare avevo detto appunto centri commerciali produzione case di produzione cinematografiche gioielli Tiffany in particolare e anche tecnologia con la Sony ecco tra le varie partecipazioni questi sono questi sono i campi in cui opera Qatar Investment Authority ma ripeto al primo posto non c'è il settore petrolifero andiamo a vedere invece Exor proprietaria del 64% di Juventus in che cos'altro è impegnata come holding di diritto olandese soprattutto riassicurazione con partner re editoria editoria a manetta settori di lusso con Shang Sha in Cina e con Christian Lobotin anche ed poi anche una partecipazione appunto molto importante più importante di quella a livello percentuale di quella che ha la Qatar Investment Authority nell'estrazione petrolifera in particolare con la società Welltech che opera nella creazione di robot e macchine per l'estrazione petrolifera quindi possiamo quasi dire che Exor ha più petrol dollari del Paris Saint Germain della Qatar Investment Authority poi ecco a livello di ricavi è diverso ma come si fa a fare i piagnistei i poveretti e le vittime ecco con una situazione come questa come si fa a dire che il Paris Saint Germain ha i petrol dollari e quindi ha potuto fare il club di figurine e la Juve è poverina poveretta ribadisco questo concetto andate ad imparare a vedere a conoscere qual è la composizione societaria o meglio quali sono le partecipazioni societarie di Exor quali sono le attività di Exor chi ha fatto l'aumento di capitale da 400 milioni a dicembre con la Juve per il 64% pari a quasi 300 milioni Exor e dove le ha presi questi soldi da queste attività ovviamente poi ci sono anche altre come automotive veicoli industriali logistica e trasporti quindi ci sono anche dei punti di contatto tra le attività economiche e finanziarie di Qatar Investment Authority e quelle di Exor ma abbiamo per entrambi la partecipazione nell'estrazione petrolifera con ovviamente attività diverse ma se vogliamo si incastrano pure perché a Qatar Investment Authority può servire la Welltech di Exor per estrarre il petrolio e alla Welltech di Exor per vendere i propri macchinari può servire la Qatar Investment Authority che è operativa proprio nel settore dell'estrazione e quindi magari si stringono anche la mano e fanno anche accordi e noi non lo sappiamo e siamo qui ad innervosirci perché PSG brutto e cattivo come si sono permessi di inquinare il calcio con i petrol dollari e noi facciamo passare il messaggio che la Juve sono poverini che Allegri lavora con poco che ha a disposizione poi lo vediamo che va le notti a Monte Carlo a parlare con Campos e giustamente a godersi i soldi che guadagna in virtù di un contratto che ha firmato ma gli è stato proposto e certamente non ha firmato da solo non ha messo da solo le cifre di 7 milioni netti più i bonus e quindi c'è tutta un'immagine distorta di quella che è la realtà della Juventus ora la Juve dove vuole andare? vuole diventare il PSG di seconda mano secondario cioè reinventato a immagine e somiglianza del PSG vero o vuole intraprendere una progettualità sportiva visto che anche il PSG entraprende una progettualità sportiva e la vogliamo smettere con i piagnistei sulla Juve bistrattata sulla Juve poverina sulla Juve attività di famiglia autoprodotta con tante difficoltà mentre gli altri se la spassano con immissioni di liquidità infinite come se non avessimo fatto 700 milioni di aumento di capitale in due anni la vogliamo smettere la vogliamo smettere sì o no? cioè ma non perché dia fastidio a me perché davvero non è sostenibile sono cose infondate quindi partiamo da quello che ha detto Al-Khelaifi cerchiamo di rompere l'ipocrisia cari amici cerchiamo di non accettare di rifiutare l'ipocrisia cerchiamo di superare l'ipocrisia questo è il punto questa è la mia battaglia questo è il messaggio che cerco di dar al di là che si sia d'accordo o meno con quello che ha detto Nasser Al-Khelaifi però poi i dati parlano chiaro vedremo naturalmente se il PSG sarà in grado di dar seguito a queste promesse a questi proclami quindi di fare progettualità sportiva ma la Juve non credo sarà in grado di dare seguito ai proclami dell'anno scorso e di due anni fa perché già il progetto giovani che non è mai partito veramente viene dilapidato viene interrotto e viene accantonato in funzione di squadra di figurine come stiamo cercando di fare con Allegri perché Allegri non sa fare altro e Agnelli non sa fare altro che mettere Allegri in panchina questa è la situazione contenti voi contenti tutti grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti sulle parole di Nasser Al-Khelaifi a proposito questa maglia l'ho indossata per obbligo diciamo di parlare del PSG ma soprattutto perché questa è una maglia importantissima perché è l'ultima maglia del PSG indossata dal grande professor Adrien Rabiot quindi veramente una maglia cruciale nella storia del calcio a parte questo like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti e se volete proseguire il dibattito anche nelle chat riservate agli abbonati abbonatevi a questo canale a partire da 99 centesimi al mese poi entrate sul mio server discord link in descrizione e potete sfruttare così anche tanti altri vantaggi ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie a tutti 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 grazie a tutti